Consigliera Catalano, oggi è primo agosto, un anno fa il furioso incendio che distrusse gran parte della riserva d'Annunziana. Si guarda al futuro, alla ricostruzione, alla riapertura delle aree verdi, anche di quelle ancora attualmente chiuse, però voi avete lanciato un allarme sulla situazione in città di alcune zone dove non è stato ultimato lo sfalcio delle erbe e questo potrebbe rappresentare un pericolo. Sì, sicuramente è un pericolo molto consistente e soprattutto concreto e reale. Una denuncia che proprio anche io avevo fatto su Facebook già nel periodo di giugno, nell'approssimarsi dell'estate e del caldo, noi abbiamo visto una situazione devastante e ancora oggi non è stata del tutto recuperata. Ci sono zone dove manca lo sfalcio, dove c'è addirittura erba molto secca e questo ovviamente determina dei grossissimi rischi. Noi abbiamo avuto e fece addirittura delle foto macchine parcheggiate nella zona proprio qui della Pineta con dell'erba altissima, completamente secca e quindi ad alto rischio di incendio, perché lo sappiamo, basta anche mettere in moto un motore, il motore si riscalda automaticamente può rappresentare un rischio reale. Noi ci aspettavamo già una politica diversa, soprattutto più concreta per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione. Su questo non c'è stato assolutamente nulla. Inoltre mi preme denunciare anche il ritardo con cui è stato inserito e quindi c'è stata la delibera, che ha visto la definizione e l'inserimento di quest'area percorsa dall'incendio nella mappatura regionale. Un ritardo che secondo me determinerà ulteriori criticità, per cui noi chiediamo alla Giunta, chiediamo al Sindaco di portare avanti delle azioni che siano concrete per la sicurezza di tutti quanti e soprattutto del nostro patrimonio arboreo.